E ora andiamo al centro revisione ACI dove ad aspettarci dovrebbe esserci Simona Santi Laurini. Simona, buongiorno. Infatti ci sono cara Gloria, buongiorno a te e a tutto il pubblico di Spunti e Spuntini. Come sempre noi parliamo di sicurezza stradale ma anche di obblighi di legge perché siamo qui appunto al centro ACI, Reco, Revisione e Collaudi a Pratacci in Via Morse e siamo in compagnia di Fabio Fracassi. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Bentrovato caro Fabio. Allora con te vogliamo capire come funziona questo meccanismo della revisione che lo ricordiamo è un obbligo di legge. Direi di sì. Allora in base all'articolo 80 la revisione va effettuata dopo 4 anni sulla prima immatricolazione e poi ogni due anni fino a che ovviamente teniamo il nostro mezzo. È un obbligo di legge, la revisione comprende tanti controlli che vengono effettuati durante il processo di revisione e oltre ad essere un obbligo quindi sanzionabile se una persona viene trovata con un mezzo che ha la revisione scaduta ma oltretutto ne va anche della sicurezza perché non è una tassa. Sono una serie di controlli che certificano che il mezzo sia effettivamente idoneo alla circolazione. E allora partiamo invece dalla fase pre perché poi dopo i controlli spettano appunto all'officina. chi deve prenotare un controllo, chi deve prenotare una revisione e che cosa deve fare? Ma semplicemente viene da noi, invia Samuilmors 20, zona Pratacci e si mette in fila, aspetta il proprio turno e se come ho detto prima i controlli hanno un esito positivo possiamo effettuare la revisione e basta. Quindi non c'è la possibilità di prendere un appuntamento, questo ecco noi lo sottolineiamo perché è importante per chi ci sta guardando da casa si viene direttamente qui, è semplicissimo e si aspetta il proprio turno? Sì, giusto, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. E quanto ci vuole poi una volta che si procede a revisione? Quanto si deve aspettare? Dipende, ovviamente dal tipo di mezzo, quindi diesel, benzina, doppia alimentazione, ci sono diversi controlli da effettuare quindi cerchiamo di essere il più veloci possibile però è anche giusto dare il tempo per un controllo accurato e serio. Tra l'altro i soci ACI che vengono qui hanno diritto a un trattamento di favore diciamo particolare. È vero, il prezzo della revisione non può essere minimamente toccato perché è una tariffa ministeriale quindi il prezzo è quello. Per i soci ACI c'è un piccolo bonus quindi il prezzo sarà 79,02 euro però avranno diritto a 10 euro di buono carburante per ringraziarli diciamo del fatto di essere soci ACI visto che noi siamo ACI. Ecco quindi è importante procedere a revisione, cara Gloria, non lo consideriamo semplicemente come un obbligo, è importante per la sicurezza, la manutenzione del veicolo, in ogni caso come ha detto Fabio ci sono delle sanzioni? Sì, c'è una multa che è abbastanza importante perché supera le 150 euro quindi insomma poi in caso di sinistro l'assicurazione tende a non coprire perché non poteva circolare il mezzo quindi ovviamente l'assicurazione dice senza revisione tendo a non coprire il danno effettuato. Quindi è bene adempiere all'obbligo di legge. Un'ultima domanda per Fabio, qui voi accogliete tutti i veicoli fino addirittura anche ai camper, non i mezzi pesanti? No, fino a 35 quintali, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, tricicli, quadricicli, tutto quello che ha quattro ruote fino a 35 quintali quindi come hai detto te camper, furgoni, l'importante è che siano fino a 35 quintali. Cara Gloria, lo so che non rispetto così la tua privacy però vorrei sapere se tu sei in regola. Sì, sono in regola, cioè sono in regola nel senso che proprio tra un mese devo procedere alla revisione perché appunto è una di quelle cose che bisogna anche ricordarsi di andare a controllare nel libretto dell'auto, giusto? Sono informata. Esattamente, esattamente. Mi sta dicendo che basta controllare il libretto dell'auto quindi lei l'ha già programmata tra un mese. Sì, noi mandiamo anche un sms per ricordare la scadenza, quindi nel mese di scadenza noi inviamo ai nostri clienti un sms che ricorda che il veicolo targa TOT ha da effettuare la revisione. Quindi insomma è a prova di bomba, è a prova di smemorato, ce la posso fare anche io cara Gloria. Hai qualche domanda? No, credo che le domande le abbia già fatte tu Simona, ti ringrazio. Bene, allora lasciamo Fabio a lavorare perché qui ci sono delle persone in fila e noi non vogliamo assolutamente incrementare i tempi di attesa degli utenti. Fabio, buon lavoro. Grazie, grazie a tutti e buona giornata. E ricordatevi, la sicurezza è l'obiettivo prioritario. Gloria, a te la linea. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo e ovviamente siamo tutti d'accordo che quando ci si mette sulla strada dobbiamo oltre a mantenere l'attenzione adeguata e non ci stancheremo mai di ricordarlo anche avere un mezzo che appunto rispetta quelli che sono le sicurezze stabilite dalle normative. Grazie a Simona Santi Laurini anche per questo contributo.